diciamo è l'ultimo dei talk pubblici del percorso della guida, il Festival Itinerante ai Nuovi Centri Culturali. I primi due sono stati la settimana scorsa, abbiamo iniziato con Filippo Tantillo che ci ha raccontato, diciamo ha fatto un talk che potremmo sintetizzare in qualche modo come cosa ho imparato come community maker lavorando per vent'anni nelle aree interne, tra Guatemala, altri posti del mondo e l'Italia. Poi abbiamo proseguito con Tatiana Bazzichelli che invece ha dato uno sguardo diciamo più curatoriale o autoriale raccontando un po' il suo percorso come ricercatrice, attivista che si occupa di fenomeni del digitale, il networking come pratiche artistiche, di pratiche artistiche che portano dentro il networking soprattutto per quello che riguarda i mondi dell'articolo digitale e qualcosa che frizza, ok, no? e poi oggi con l'ultimo incontro a porte aperte che è con Stefano Maffei che è ordinario di design al Politecnico di Milano, Stefano ti ho visto prima quindi ci dovresti essere, ecco ti ti vedo. Ci sono, mi sentite? Esatto, sì ti sentiamo benissimo, che diciamo ci è venuto un po' facile invitarti fin dall'inizio quando stiamo ragionando ok dobbiamo fare dei talk trasversali che parlano pubblici diversi e che spacchino, devo dire la verità insomma sei stato il primo nome che hai iniziato a girare forse. me l'hai messa facile, adesso dovrò come dire fare fuoco e fiamme per mantenere le promesse. Sì, per caricare un po' la cosa sostanzialmente. Io direi che da questo punto di vista non sto neanche a introdurti più di tanto, tanto di solito sei bravissimo a raccontarti da solo, a raccontare quello che fai, per cui direi apriamo questa parte sul design. Per quello che riguarda le domande ci sono due modi per farle. Allora le teniamo tutte alla fine, quindi non vi chiediamo di non interrompere mentre c'è il talk. Le potete scrivere per chi è su Zoom in questo momento, di scriverle nella chat, nella chat comune e noi le riprendiamo alla fine. Per chi invece ci sta guardando dallo streaming su Facebook, le può postare sotto lo streaming sotto il post dello streaming sulla pagina, noi le riprendiamo e le portiamo qua. Ok, grazie. Vai Stefano. Va bene, allora grazie di avermi invitato. Facciamo subito, faccio un minuto di presentazione. Come hai detto tu, lavoro al Politecnico di Milano, scuola del design e dipartimento. Mi occupo di diverse cose. Sono il direttore del makerspace Polifactory, dove ci occupiamo di modelli di produzione materiale, digitale, quindi fabbricazione digitale. È un luogo dove si fa sperimentazione concreta, nel senso che attraverso la pratica, attraverso la costruzione reale di artefatti. Sono anche il direttore del master in service design, quindi l'altra componente, quella legata agli intangibili del mio lavoro, si sviluppa all'interno di queste iniziative, di una serie di iniziative che partono appunto dalla cultura del design dei servizi. Come elemento che mette la cerniera tra questi due mondi c'è il mio terzo ambito, che è quello che cercherò di introdurvi stasera in questa breve presentazione, che è quello cosiddetto del design for policy, cioè dell'idea che esiste un contributo progettuale che non solo disegna artefatti o servizi, ma disegna anche l'elemento di azione politica concreta, diretta, che poi lega entrambi questi due ambiti. Quindi se adesso comincerei condividendo il mio schermo, e direi che voglio solo una conferma che questo funzioni, mi potete dare una conferma perché ovviamente io non... Sì, ti vediamo. Perfetto, fantastico. Ora posso iniziare, diciamo, la mia presentazione. Allora, innanzitutto grazie di avermi invitato, spero di non annoiarvi, cercherò di fare una velocissima, come si dice, una velocissima escursus, diciamo, che parte da alcune premesse di tipo generale teorico, poi prova ad affrontare, diciamo, alcune questioni, diciamo, più prettamente disciplinari, ma che secondo me si allargono benissimo, credo, al tipo di lavoro che state facendo, in qualche modo che sta avvenendo anche in seguito a questa emergenza, diciamo, Covid e tutto quello che nasce, diciamo, dal post-Covid. Allora, innanzitutto la considerazione che faccio è che credo che non ci sia bisogno di dire che in un qualche modo quello che noi stiamo vivendo è un momento importante, qualcuno parla di discontinuità sistemica, io sono più cauto, credo che ci sia una società complessa, è un'evoluzione di un sistema interrelato di tecnologia, società, individui e cognizione, molto, molto in trasformazione. Quest'induzione a livello di shock è stata data da un evento, ahimè, in Fausto, ma credo che ci fossero all'interno di questa situazione già dei semi, dei germi della trasformazione che forse con osservazione attenta potevamo rilevare. Queste trasformazioni solitamente sono affrontate dal discorso in generale della politica, la politica intesa in senso alto, come valori, aspirazioni, obiettivi e anche, diciamo, storie e tradizioni che sta dentro al sistema della politica, quello organizzato, reificato nelle forme della democrazia, della rappresentanza e della decisione che in un qualche modo ci accompagnano, ma tendenzialmente questo approccio ha, almeno diciamo nella sua manifestazione concreta, la caratteristica di essere un approccio che procede, almeno nei paesi che hanno una tradizione del diritto romano, quindi basata su la scrittura delle leggi, la scrittura delle misure, degli elementi che raccontano o tentano di indirizzare questo cambiamento, un approccio di tipo normativo. Questo che è un punto di partenza, dal mio punto di vista, si scontra però con questa condizione della complessità. Tendenzialmente, quando parliamo di complessità, noi ci riferiamo, diciamo, a un modello del sistema, insomma, della realtà che ci circonda, che ha degli elementi, diciamo, stratificati, di scala, di connessione, di relazione, di dinamica, di processo. Tendenzialmente, quando lo pensiamo, lo pensiamo in maniera, come dire, appunto dinamica, complessa, e molto spesso ci dimentichiamo che l'approccio della politics, di cui parlavamo prima, della politica, in un qualche modo si deve complementare. In una visione contemporanea e credo anche molto dinamica di questa relazione, l'idea è che anche il sistema, diciamo, delle politics in qualche modo diventi dello stesso tipo, quindi abbia una dimensione sistemica e coinvolva col sistema in generale. Ma se guardiamo, diciamo, questi approcci normativi, ci renderemo conto che, senza fare grandi analisi, ma anche se le volessimo fare, che esiste, diciamo, una dimensione di crisi. Questa dimensione normativa non coglie più la velocità, la profondità e la multiformità di queste trasformazioni. E se cominciamo a guardare quelle che sono delle risposte che, da un certo punto di vista, il sistema della politica o il sistema del governo, ma anche, diciamo, il sistema della ricerca stessa, della produzione culturale, del pensiero, di conoscenza, le risposte a queste grandi sfide che hanno una scala sistemica cominciano ad essere articolate, almeno dal parte, diciamo, dell'azione pubblica, attorno al concetto di missione, Cioè di una grande sfida, di una grande challenge, attorno a cui molti attori, molti portatori di interesse, molti soggetti che hanno differenti categorie, in un qualche modo possono partecipare. Ovviamente con ruoli diversi, complementarietà, risorse, capacità, ma certamente con una direzione, una strategia, una dimensione unica. Questo, dal mio punto di vista, si trasferisce anche, diciamo, sempre ad altri elementi di grande scala macro, no? Gli obiettivi di sviluppo sostenibile, no? Che sono di fatto una grandissima agenda politica, parlano di questa transizione, trasformazione del sistema che in un qualche modo è un sistema della politica universalista, universale, a prescindere dalla sua capacità poi di agire, ha immaginato come un destino, come un traguardo, come una roadmap per appunto una transizione che non riguarda solo gli individui o le comunità locali, ma in generale l'universo. Alcuni commentatori di questa trasformazione sono anche, diciamo, alcuni soggetti che credo popolino la vostra, diciamo, il vostro background culturale. Sto parlando, per esempio, di Bruno Natur, no? che parla in questa dimensione di grande trasformazione del sistema che è di alcune sfide che sono più importanti o più totalizzanti di altre. Lui parla di nucleometric regime, inteso come il sistema della trasformazione che accompagna appunto il sistema immaginando, ovviamente, in un'ottica alla Latour, che questo sistema non sia totalmente controllabile da una prospettiva antropocentrica, umana, no? E quindi la sua dimensione, quella che lo definisce di simmetria, anche nella parte tecnologica degli agenti artificiali o comunque degli elementi che vanno a costruire degli assemblaggi con l'umano, con la volontà umana, in un qualche modo bisogna di essere ripensata, ridisegnata, rimmaginata e quindi forse dare origine anche, diciamo, una nuova dimensione della politica e della governance. Alla fine, uno degli elementi su cui, anche nella stimolazione, diciamo, per questo intervento mi era stato chiedere chiesto di riflettere è appunto la dimensione di appropriazione di questa dimensione della trasformazione e questo elemento di appropriazione non può che passare attraverso l'idea di una partecipazione, cioè del fatto che questa azione di progettazione, di revisione di quello che sono gli elementi di strategia, di trasformazione del sistema, ma scendendo poi anche alla fine agli elementi invece più fini, più reali, più concreti che sono, diciamo, sul livello dell'esperienza individuale, o comunque locale, sono comunque basati su un'idea di allargamento, di apertura di questo potenziale a un insieme di soggetti che in un qualche modo dall'individuo a tutti i soggetti che possono comporre questa dimensione di trasformazione vi partecipano. E la partecipazione, come sapete, diciamo, degli aspetti che, seppur discussi milioni di volte, hanno elementi di diversità, perché abbiamo da elementi che riguardano alcuni aspetti legati, diciamo, a un confronto, a uno scambio relazionale comunicativo che ha come oggetto una decisione anche, ma non sempre, fino alla dimensione appunto di azione di questa partecipazione dentro dei meccanismi che sono preparati per ricevere questa deliberazione, ma ha a che fare a un certo punto nei suoi aspetti più sofisticati, più alti, e sono quelli che tendenzialmente a me interessano, con un'idea di democrazia che fa partecipare, almeno diciamo, nell'unità atomica minima l'individuo, il cittadino, a una dimensione di partecipazione non solo all'espressione diciamo di un'opinione o di un consenso, ma alla definizione stessa delle strategie del cambiamento, se non in qualche caso quando arriviamo a definire questa condizione come condizione di coproduzione, quindi non solo di partecipazione, anche in realtà effettivamente un ruolo attivo, trasformativo, anche a livello più basso, a livello più atomico. Da questo punto di vista alcuni importanti sociologi hanno parlato di una rappresentazione della pluralità della realtà sociale attraverso questa inclusione diciamo dei soggetti atomici decentrati, cioè come dire non compresi solamente dentro le loro forme organizzate, sociali, culturali o qualche volta economiche e che questa volta questa pluralità può diventare un elemento interessante per andare a costruire le condizioni non solo di partecipazione come abbiamo detto ad alcuni pezzi del funzionamento di questa macchina politica o di governance ma anche proprio diciamo come una forma di democrazia che agisce direttamente. Si parla appunto di democrazia radicale o radical democracy che dir si voglia che è una prospettiva che ha a che fare credo intreccia alcuni fili che probabilmente avete affrontato in questo percorso di discussione e capacitazione e che in qualche modo credo sia interessante anche per la prospettiva che vi voglio raccontare. In questa visione l'idea che questa parte diciamo di rappresentazione degli interessi non si non lavori solo semplicemente appunto sugli elementi di tipo deliberativo e consultivo ma che sia proprio diciamo una scena in cui le intenzioni dei soggetti possano agire direttamente in una tensione agonistica in senso positivo quindi di confronto includendo quindi passioni interessi e in un qualche modo come dire con una strategia che non per forza deve essere di mediazione a tutti i costi è proprio questa del pluralismo agonistico dell'agonistico e questo diventa sicuramente per chi come me si occupa di progetto uno degli elementi sostanziali diciamo di questa strategia di azione diciamo privata e pubblica per la trasformazione del nostro intorno del nostro ambiente di quello che noi viviamo e in questo in questa dimensione una persona come Cardi Salvo che parla di avversari al design cioè di un design che semplicemente non accetta lo stato di fatto e non prevede la trasformazione solo come un aspetto diciamo regolato da un sistema che è quello ovviamente capitalista avanzato in cui noi viviamo in un qualche modo la nostra azione parlo di noi designer ma in generale tutti i professionisti o i soggetti o le organizzazioni che appunto promuovono questo cambiamento appunto questo tema dell'adversario al design cioè di un progetto che cerca di estrarre dal sistema delle condizioni in cui questa democrazia radicale in qualche modo si può rappresentare e quindi può agire direttamente per trasformare la realtà non solo semplicemente ricevendo degli schemi o dei brief della trasformazione e soggetti che in un qualche modo controllano la governance il potere o la capacità di investimento economico questo ci porta in un territorio in cui altre sempre persone che come me lavorano nel campo del design arrivano a ipotizzare come una nuova dimensione della democrazia una democrazia che in un qualche modo si trasferisce semplicemente dall'arte del governo delle cose e della rappresentanza degli interessi è una dimensione più sofisticata ma anche più rischiosa per qualche aspetto che potremmo definire una democrazia progettuale dove quello che entra in campo sulla scorta di questa diciamo idea di democrazia radicale non è solo appunto la capacità partecipativa o deliberativa nelle fasi iniziali di generazione delle idee e delle strategie ma diventa anche un accompagnamento diretto alla realizzazione di azioni che molto spesso poi si manifestano sotto la forma di servizi servizi nella dimensione della società contemporanea che in un qualche modo media la realtà materiale ma questa infrastruttura intangibile che è fatta di persone ma non solo di tecnologie e di relazioni costruite tra questi due insiemi che in un qualche modo poi è la forma con cui noi sperimentiamo le cose nella nostra società questa dimensione rigioca ritornando diciamo all'esempio che ho fatto all'inizio sia su una dimensione globale ma anche su una dimensione locale ed è in questa tensione che Sio Manzini chiama di cosmopolitan localism che nascono gli elementi di creazione dal basso il bottom up della idea di una creazione di azione trasformazione che gli anglosassoni chiamano grassroot cioè tendenzialmente derivante diciamo da questa idea di cittadinanza di partecipazione integrazione diciamo degli individui cittadini che poi si aggregano dentro a pratiche o a relazioni di gruppo di comunità e costruiscono queste comunità creative che poi sono protagoniste del disegno di questi servizi che molto spesso hanno una base fortemente di condivisione o di collaborazione e da questo punto di vista in questa idea di sviluppare una dimensione locale la dimensione cosmopolita locale porta dentro diciamo la rappresentanza della diversità e quindi il localismo inteso come un punto di vista dal punto di vista della trasformazione dell'universo in cui noi viviamo viene mediato e bilanciato da questo attraversamento di questi flussi globali della conoscenza delle esperienze e appunto della diversità che in un qualche modo arricchisce e abbatte le barriere anche come dire qualche volta negativi di una visione puramente locale il luogo dove questo avviene sostanzialmente e credo che su questo siamo d'accordo seppur con rinnovate discussioni sul tema diciamo della proprietà di questa affermazione è il tema della città o delle grandi aree urbane che sono dei concentratori sia dei valori credo della democrazia in tutte le sue forme anche quelle diciamo agonistiche e dall'altra parte è anche luogo dove si manifesti in maniera più densa la necessità e il bisogno di servizi o diciamo di dimensione di prodotto dal punto di vista della dimensione delle esigenze materiali e allo stesso tempo concentra anche l'intelligenza la conoscenza quindi luoghi dove avviene un'elaborazione una sperimentazione su queste dimensioni facendo diventare questo territorio che non è solo un territorio materiale fisico ma è un territorio una geografia mentale culturale produttiva distributiva sostanzialmente dei siti che possono testare molto velocemente questo passaggio e in un qualche modo dimostrare la capacità che ha appunto il cosmopolitan localismo la democrazia radicale di mettere in scena delle soluzioni che sono reali da questo punto di vista il contraltare di questa dimensione che esiste e che secondo me completa diciamo in qualche modo questa dimensione progettuale è tutti i meccanismi o diciamo i soggetti o le iniziative che esprimono o collaborano l'intenzione deliberativa poi immaginando che alcuni di questi passaggi che noi possiamo in qualche modo costruire dal basso vengono anche regolati attraverso delle forme che sono più istituzionalizzate qui ho segnato diciamo alcune tipologie di questo di questo tipo di attività che in qualche modo vanno a costruire una rete complessa che secondo me racconta bene lo spirito della trasformazione e della dimensione in qualche modo di progettualità di cui noi stiamo parlando dal punto di vista quindi se dovessimo fare un'affermazione sintetica con cui andiamo a prendere queste premesse e proviamo diciamo a trasferire nella realtà quello che noi stiamo immaginando di fatto è che a noi interessa diciamo parlare solo di un'intenzione politica generale o parlare diciamo di valori di scambi che hanno come oggetto qualche volta diciamo degli elementi astratti seppur importanti come dire generativi ma ci interessa diciamo anterrare in questa dimensione dal punto di vista della pragmatica cioè di come poi questo si traduce in un'azione concreta in come si traduce in elementi di strategia operativa come si passa in qualche modo diciamo una dimensione come detto all'inizio normativa una dimensione esecutiva pragmatica per fare questo quello che noi dobbiamo immaginare di fare e di immaginare questo processo che non è legato appunto alla politics ma è legato al policy making quindi alla prescrizione di azioni che hanno anche un elemento diciamo legato alla trasformazione concreta come un elemento che in un qualche modo è effettivamente progettuale che si può progettare non ho messo diciamo una parte dedicata a questo molto sofisticata all'interno diciamo della presentazione ma credo che qualcuno di voi abbia sentito parlare di quello che è il ciclo del policy making che va dall'ideazione alla valutazione e che è l'elemento centrale di qualunque strategia di trasformazione in cui l'elemento della policy diventi una parte integrante quindi questa cosa qui non riguarda molto spesso anche tutta l'immaginario che noi ci immaginiamo che è un immaginario fatto appunto di elementi normativi di pratiche un pochettino diciamo più legate degli aspetti di burocratizzazione di questi processi ma in realtà è proprio un elemento che si basa su degli approcci di tipo progettuali e quindi che includono elementi che vengono dal design dei servizi quindi dall'analisi etnografica dei contesti fino ad arrivare all'immaginario di nuovi servizi che molto spesso sono di mano pubblica e che sono in qualche modo gli elementi poi concreti visibili che il cittadino in qualche modo si vede offrire sia che l'iniziativa si sviluppi totalmente dalla mano pubblica ma qualche volta anche attraverso una relazione di regolazione diciamo dai soggetti privati e questo è interessante perché diciamo uno dei valori diciamo dell'approccio progettuale che il design in qualche modo porta è il fatto che da un certo punto di vista quello che noi portiamo è una capacità storica di guardare l'inesplorato di guardare dei contesti che il design definisce dei wicked problem cioè dei problemi che hanno un grave problema una difficoltà di definizione e attraverso una serie di approcci che riguardano soprattutto l'idea di progettare guardando gli utenti ai cittadini e in realtà i contesti poter costruire un insieme di ascolto di questi bisogni di queste opportunità che sono esistenti nei territori come avevamo detto nel nostro esempio principale nelle città nelle aree urbane immaginando di scoprire questi problemi e queste opportunità appunto non semplicemente con un'azione politica tradizionale ma andando sul campo e provando a immaginare di trovare e definire questi contesti in maniera più chiara questo nella nostra disciplina viene definito come l'idea di arrivare in qualche modo ad agire sul famoso quarto ordine del design ma anche il terzo ordine direi in questo caso Richard Buchanan che parla di questa cosa anche nella sua diciamo analisi preliminare che parla del design come di una disciplina che aiuta a risolvere questi wicked problems e come vedete diciamo gli elementi sostanziali di questo terzo e quarto ordine sono appunto le attività i servizi e i processi i sistemi gli ambienti che comprendono a questo punto le idee e i valori e il design come fa a fare questo lo fa ed è diciamo l'oggetto che ho annunciato all'inizio attraverso questo approccio che si chiama di design for policy dove gli elementi del service design che sono appunto in un qualche modo gli elementi stereotipati che vanno ad indagare e a sviluppare in forma di azioni azioni progettate integrazione di organizzazione tecnologia l'offerta diciamo di queste performance che noi troviamo nel nostro ambiente quotidiano vanno a arricchire questi elementi che sono voglio dire già il pane quotidiano di molte delle attività che noi in qualche modo incontriamo con degli elementi appunto di integrazione di un ordine diverso che è quello del policy making del policy cycle cioè della definizione delle azioni che stanno sopra e creano le condizioni per la generazione di questi servizi se dovessi fare un esempio se provate a immaginare tutti i servizi che vengono offerti dal punto di vista del welfare ma che abbiamo provato e testato in un qualche modo anche in questa sfortunata emergenza di fatto sono rappresentano un esempio abbastanza chiaro di come la mano pubblica agisca attraverso diciamo degli elementi concreti sia nella regolazione che nella progettazione di questi interventi e poi come ci sia di fatto un impianto esistente che il welfare ha realizzato storicamente ereditato e modificato via via all'interno del sistema che in un qualche modo caratterizzano diciamo l'immagine dell'innovazione pubblica in una nazione ma anche in una regione ma anche in un territorio e così come io vedo questi elementi potrei fare diciamo una metafora analoga per altri dati che in questo momento leggiamo come problematiche il tema dell'apprendimento e dell'educazione il tema diciamo della generazione o diciamo della trasformazione del lavoro quindi molti aspetti che in un qualche modo rappresentano la nostra vita quotidiana alla fine quello che andiamo a realizzare se lo dovessi dire in un linguaggio della sociologia un intervento sui sistemi sociotecnici e quindi anche qui c'è un cortocircuito di integrazione tra le discipline che prende molti aspetti diversi che vanno dall'economia politica al management alla teoria dell'organizzazione alla sociologia al design dei servizi e in un qualche modo producono degli effetti appunto di trasformazione costante dentro al nostro ambiente se dovessimo però andare a vedere il luogo dove maggiormente è visibile questa cosa qui è certamente non nella parte diciamo a monte della formulazione del progetto delle politiche e dei servizi ma certamente nella sua nel suo passaggio alla dimensione concreta l'implementazione a quello che potremmo definire con una espressione diciamo che semplifica la materializzazione di questa di questa offerta che però è la condizione essenziale perché poi ci sia esista davvero questa performance credo che in questi giorni diciamo dal punto di vista della cronaca ci siano state molte discussioni in arene pubbliche in cui si parla dell'impossibilità di trasferire alcuni elementi realizzati con la normativa classica dentro un quadro delle azioni quindi del fallimento di questa politica fatta per i decreti attraverso i decreti che non considera la macchina potente che deve mettere in azione questi elementi diciamo di azione concreta e che in un qualche modo si scrive già diciamo nelle intenzioni iniziali una sorta di fallimento potenziale di fallimento reale che poi a un certo punto si realizza se andate a vedere dal punto di vista di un approccio anche non specialistico che cosa vuol dire immaginare questo progetto dei servizi ma qui c'è uno schema che tra questo libro che hanno scritto due mie colleghe sono Anna Meroni e Daniela San Giorgi che parla di design for services dove se andate a vedere tutti i contesti in cui il design dei servizi in teoria può agire dal fostering organizational change shaping service system designing interactions designing for co-creation solo esempi ma per dire che da questo punto di vista questi elementi come dire che sono potenzialmente come dicevamo prima degli strumenti o dei processi o dei sistemi di controllo dei processi possono aiutare categorie nuove di soggetti che fanno azione pubblica a immaginare azioni che sono appunto escono dal binario tradizionale se andiamo ad unire a questa parte qui anche un'area di lavoro in cui credo alcune delle persone che mi ascoltano in generale anche credo le persone che mi hanno invitato quindi Bertrand che fare agiscono cioè la dimensione dell'innovazione sociale emergente dove questi bisogni sociali trovano una materializzazione più o meno diciamo autonoma e spontanea o comunque in contesti che sono ricchi di opportunità o agenti o elementi organizzativi che aiutano in qualche modo ad esprimerla allora se mettiamo insieme design di servizi e innovazione sociale con questa idea di agonismo o di democratico in qualche modo cominciamo a intravedere una dimensione complessiva di potenziale che secondo me rappresenta l'elemento di vera novità non perché questi elementi non fossero presenti separatamente ma diciamo perché la fusione o l'integrazione di tutti questi aspetti genera un ambiente con un potenziale dinamico elevatissimo da questo punto di vista anche qui il design parla di design for transition non vi voglio in qualche modo annoiare con una prospettiva disciplinare ma ovviamente una presentazione molto sintetica è difficile condensare diciamo i tantissimi livelli di relazione che diciamo le cose che sto dicendo generano o in qualche modo manifestano ma tendenzialmente anche l'idea che si possa pensare non più in termini semplicemente di bisogni ma riprendendo anche la dimensione della tour di grande traguardo omissione radicale che ha delle chiavi che ovviamente noi tutti condividiamo dal new green deal fino alla dimensione delle challenge ambientali sovranazionali allora questa visione per la transizione necessita quindi anche di una prospettiva che non è solo focalizzata sul locale e diciamo l'immediato o comunque nel velocemente progettabile e realizzabile ma anche con dei traguardi che sono voglio dire degli elementi lontani che ci aiutano a costruire delle road map dei processi per generare un cambiamento molto più sofisticato e progressivo da questo punto di vista quindi pensare servizi vuol dire pensare azione pensare in qualche modo a come tutto questo grande patrimonio anche di valori e di idealità in un qualche modo può essere agito può essere trasformato certamente l'elemento base o cardine prima sentivo diciamo gli scampoli del dibattito che mi ha preceduto in cui si parlava di spazi o strumenti della collaborazione della coproduzione che sono spazi cognitivi sono spazi tecnologici qualche volta sono spazi fisici certamente si accompagna dei processi che pur qualche volta essendo auto organizzati hanno anche necessità di scegliere anche per implementare o diciamo rafforzare potenziare questi processi anche strumenti o processi che in un qualche modo discipline come il design mettono a disposizione di sicuro quello che possono promuovere è certamente un modello di innovazione che avendo una sorgente dal basso e andando davvero ad affrontare degli elementi che sono sentiti da queste comunità può avere diciamo degli elementi di partecipazione e un livello di resilienza molto forti da questo punto di vista se dovessi fare un'analisi di quanto di questa partecipazione con il design vediamo in giro direi allora certamente ne vediamo direi non tantissima ancora qua in Italia seppure con elementi interessanti soprattutto devo dire in città come Milano dove una serie di politiche credo illuminate di diverse assessorate hanno messo in campo delle azioni in cui diversi stakeholder o diversi pezzi della cittadinanza hanno potuto agire con questi processi di co-design di collaborazione non sempre totalmente integrati quindi arrivando fino alle parti conclusive ma certamente con degli azionamenti che sono molto vicini alle situazioni che sto descrivendo quindi cioè se dovessimo cominciare a tirar fuori a cominciare a elencare o immaginare degli elementi di governo di governance per i cittadini la cittadinanza che cosa dovremmo probabilmente andare a guardare allora dovremmo guardare sicuramente a delle condizioni che sono cambiate quindi digitalizzazione SMT estensiva il tema degli open data o comunque dei dati in grandi quantità l'idea che esiste una servitizzazione c'è la pubblica amministrazione di innovazione in un qualche modo stanno generando anche diciamo una trasformazione delle pratiche tradizionali c'è una partecipazione aumentata semplicemente dagli ambienti e dalle relazioni comunicative e ci sono anche nuovi modelli di innovazione urbana pubblica in cui non solo si guarda degli elementi di bisogno tradizionale ma si guardano anche a esigenze più sofisticate che sono appunto emergenti all'interno della nostra società della nostra complessità mi viene da citare per esempio le azioni sulla periferia di cui credo che ci siano diciamo diversi testimoni presenti magari nell'audience o che hanno a che fare anche con tutta l'avventura e sperimentazione che che fare in qualche modo sta generando e in questo di nuovo l'amministrazione milanese che abbia diciamo affrontato questo tema con alcuni elementi di virtuosità proponendo oggettivamente delle azioni in qualche modo innovative quindi trasformazione della democrazia rappresentativa cioè a elementi o spazi o iniziative che includano la partecipazione se andate a vedere diciamo da questo punto di vista quali sono gli esempi più interessanti uno citatissimo è quello diciamo in qualche modo iniziato dall'azione di Francesca Abria a Barcellona che anche qui non ho il tempo di descrivere completamente ma che in un qualche modo immagina tutto questo processo di rappresentazione degli interessi fino alla parte dell'ingaggio e alla sua valutazione perché non l'ho voluta introdurre perché è un elemento di ulteriore complessità ma certamente significativo per andare a immaginare appunto l'idea di un open policy making in cui tutti i soggetti che partecipano a questa azione collettiva in qualche modo sono rappresentati e hanno delle condizioni di trasparenza che le rende in grado di agire quindi dal punto di vista generale se andiamo a elencare diciamo giusto come titolo esistono dei modelli che includendo questa prospettiva in qualche modo ci raccontano di un modo nodo di andare a immaginare questa azione di trasformazione allora partiamo dall'idea di open government cioè l'idea sulla scorta di quello che raccontavo prima del caso di Francesca Abria e di Barcellona quindi l'idea che sempre di più se immaginiamo questo cambiamento questo shift nell'idea di governo di costruzione dell'azione quello che abbiamo bisogno di includere dentro l'azione politica tradizionale sono appunto trasparenza integrità dal punto di vista dei processi l'accountability quindi la possibilità di testimoniare rendere trasparente tutti i passaggi ed esplicitarli e all'assunione di nuovo la condizione di partecipazione questo ha degli elementi come dire anche sottilmente differenti che sono in questo caso diciamo il modello quello delle government che ha non per forza tutte le caratteristiche dell'open government cioè può averle ovviamente ma soprattutto come dire in qualche modo trasforma i soggetti e le strutture dell'azione politica tradizionale attraverso l'uso diciamo delle tecnologie ICT e facendo questo ovviamente genera in automatico un processo di cambiamento generato da questo potenziale che poi va a impattare fortemente il tema organizzativo il tema del cambiamento della politica attraverso il cambiamento del suo struttore e per ultimo anche qui tema controverso che solo accenno immaginando di avere potenzialmente in in azione una delle due forme precedenti il grande serbatoio potenziale dei dati di tutti i livelli di tutte le scale che in qualche modo il nostro passaggio ormai direi compiuto o comunque molto avanzato digitale produce possono essere ulteriormente integrate quindi andando a costruire quelli che verrebbero definiti con un'altra espressione degli elementi di anticipatori government cioè di idea di governo predittivo che usa questi dati per andare ad anticipare alcuni potenziali che in realtà noi non riusciremo a cogliere osservando i contesti come sono nella loro dimensione presente ovviamente qui c'è un lungo passaggio su Barcellona che è stata la prima a integrare tutti questi livelli in una politica complessiva dove si parlava appunto di intelligenza collettiva grazie a questi elementi e modelli di partecipazione l'idea di trasparenza di ownership dei dati e quindi alla fine derivante una idea di sovranità tecnologica quindi diciamo di un contesto locale urbano che può generare una politica attraverso diciamo questa capacità di generare un sistema di politica pragmatica alternativo alimentato diciamo da questa dimensione adesso non ve la sto a raccontare tutta perché ovviamente ci servono molti elementi di vittaglio ma ha fatto un piano di implementazione strategica ha come dire messo come elemento complementare questo impetus plan che andava a osservare quelle condizioni che noi prima abbiamo definito di innovazione sociale quindi andando a ricercare dei bisogni che erano nascosti e non solo propri diciamo di un sistema di mercato compiuto e vagamente aggressivo fino ad arrivare a degli elementi che poi trasferivano questa idea di sovranità digitale di modelli di produzione locale anche la produzione materiale immaginando questa rete di fablab metropolitani facendo degli esperimenti diciamo in quest'area di Barcellona si chiama Poblenau con questa idea dell'isolato autosufficiente la superiglia dove c'erano si incrociavano elementi di policy di trasformazione di servizio sperimentali quindi testati dai cittadini con dei casi concreti fino ad arrivare poi a diciamo un'integrazione complessiva che come ho detto va diciamo dall'integrazione del piano strategico sul digitale fino alla fabbricazione di quartiere in questo uno degli elementi fondamentali è stato anche l'idea di sviluppare delle infrastrutture digitali quindi quello che loro hanno definito city operating system cioè un sistema operativo digitale una nervatura digitale fatta di processi strumenti e diciamo in qualche modo complementati da un'organizzazione dedicata che a quel punto lì ha fatto fare a Barcellona almeno dal punto di vista della percezione diciamo un salto decisivo come esempio da imitare famosissima anche la piattaforma dei SIDIM dove c'è questa prima parte di quello che sarebbe definibile come un policy cycle tradizionale diventa uno degli elementi di azione assenamento dell'iniziativa popolare molti progetti spazi del progetto della discussione questo cosa va a in qualche modo creare la necessità di fare un ingaggio dei cittadini i cittadini che sono sempre stati considerati come dei partecipanti non dico passivi ma certamente non protagonisti devono essere in qualche modo messi al corrente aiutati in qualche modo bisogna aiutare il loro apprendimento perché questi meccanismi che sono tendenzialmente nuovi prevedono almeno un parziale cambiamento di quello che era l'idea di attivismo più tradizionale che però certamente in qualche modo sposa anche questo nuovo passaggio da questo punto di vista sappiamo che anche in Italia ci sono stati esempi di partecipazione del basso che poi hanno trovato degli elementi di strutturazione sempre organizzata Manzini parlava di creative communities e appunto di collaborative services tante volte questi elementi si sono aggregati come nel caso del social street attraverso diciamo un'idea come dire che non era ancora di partecipazione per una trasformazione concreta ma nasceva magari da esigenze o da elementi di problema di opportunità di piccole comunità culturali che poi si sono evoluti e hanno saputo creare anche degli elementi diciamo di azionamento se non diretto diciamo politico di tutto il processo e questo dal mio punto di vista è anche evidente in alcuni strumenti più tradizionali che sono stati messi a disposizione diciamo integrando questa logica della partecipazione tra digitale diciamo e forme diciamo ancora tradizionali di partecipazione tema del bilancio partecipativo che ha molti esempi molte caratteristiche differenti eccetera nel caso di Milano anche ha avuto diciamo una sua strumentalizzazione non nel senso di sbagliato ma di trasformazione di strumento attraverso la piattaforma Milano Partecipa anche lì come dire la discussione paradossalmente si può alternare tra i meccanismi di controllo e di partecipazione quanto le piattaforme come questa in un qualche modo rispondono all'idea di una partecipazione concreta attiva in tutte le fasi del progetto quindi perdonatemi con una dimensione più radicale o più profonda però diciamo certamente sono dei segni positivi che ci fanno immaginare che almeno idealmente c'è un percorso attivo di riflessione per arrivare a trasformare questo potenziale l'ingaggio cittadini in un'azione concreta se immaginiamo questa parte qui allora quello che ancora manca è quello che io dicevo prima è l'intervento diretto nel progetto vero e proprio della trasformazione quindi non solo la deliberazione come dire sugli elementi che poi un soggetto terzo tendenzialmente il soggetto pubblico realizzerà ma quanto più diciamo mettere le mani in pasta una partecipazione diretta mi vorrebbe dire radicale attivista dentro questi elementi con anche dei modelli nuovi da inventare o da mettere a punto di collaborazione tra pubblico e privato in cui questo elemento di complementarietà o di sussidiarietà se lo vogliamo chiamare così in qualche modo risulti più evidente e generi delle opportunità ulteriori per come dire l'investimento che la mano pubblica fa appunto nei processi di costruzione delle policy o dei servizi questo di De Sire Madrid ve lo tralascio ma diciamo anche qui aveva un'integrazione degli elementi dal punto di vista del caso che noi vediamo nella piattaforma partecipativa milanese e invece il tema del bilancio partecipativo quello su cui magari volevo spendere due parole in più visto che mi sono prudentemente messo un contaminuti e vedo che il mio intervento dovrebbe in qualche modo arrivare velocemente a chiudersi e questo diciamo del lavoro fatto dalla fondazione per l'innovazione urbana di Bologna che ha costruito in questo modo attraverso diciamo un sistema partecipativo inclusivo e comproduttivo una serie di servizi e di iniziative che secondo me rappresentano dei casi rilevanti e in un qualche modo forse un buon livello diciamo di stato dell'arte per andare a discutere di queste cose anche in Italia il primo che vi racconto è questo diciamo del laboratorio area sul monitoraggio della qualità dell'area che è partita attraverso anche qui un ascolto dei bisogni dei punti di vista interviste quindi diciamo un grounding di tipo etnografico ha sviluppato una soluzione e qui magari non ho così abbastanza informazioni per sapere il livello partecipativo anche dentro il processo di messa a punto di quella che è diventata poi un'applicazione e che diventa l'elemento concreto di servizio ma a questo punto anche di esplorazione di ricerca per questa iniziativa concreta che rappresenta l'idea di sfidare la qualità dell'area come un elemento della qualità rilevante della nostra vita all'interno delle città altra cosa molto interessante credo che sia stato tutto il tema dei laboratori di quartiere questa diciamo un'iniziativa più tradizionale ma svolta con grande profondità e come dire con una grande larghezza di intenti e con un effort di costruzione anche qui di lavori e di abilitazione di momenti di facilitazione tra cittadini o comunità di cittadini e l'amministrazione pubblica che poi ha generato diversi diciamo tagli che andavano appunto dal tema del bilancio partecipativo anche l'idea della trasformazione urbanistica e degli interventi diciamo dal punto di vista architettonico ambientale nei quartieri questo secondo me rappresenta ovviamente un mordello virtuoso che certamente ha una specificità anche nella tradizione e nel modello di gestione diciamo del sistema della governance bolognese certamente ma che ha alcuni elementi dal mio punto di vista imitabili videotrasferibili e forse parzialmente anche comparabili appunto con città come Milano o Torino qui diciamo un'immagine di quello che era questo percorso di collaborazione con anche l'interesse diciamo di rendere trasparente appunto di dare accountability quindi non lasciare questi processi di relazione con il tra soggetto pubblico e cittadino in un qualche modo nascosto nei cassetti anche questa idea di spettacolarizzazione come un momento di apprendimento e di generazione di discussioni sul risultato credo che sia un segnale molto positivo fino ad arrivare a casi che sono virtuosi che anche qui ci sarebbe da stare giorni tra Nesta il Policy Lab UK dove per esempio diciamo giusto per darvi un'idea sempre con questo metodo di generazione derivato diciamo dal modello del design dei servizi anche qui per esempio l'esempio era quello di generazione di un health and work passport per le persone disabili che ha visto anche qui entrare in relazione diciamo un soggetto consulenziale che ha una natura pubblico-privata con dei problemi che sono dei problemi che qualunque delle nostre amministrazioni dei soggetti attivi sul territorio potrebbe affrontare anche qui diciamo l'elemento interessante è diciamo la ricerca sul campo mescolata col tema della data science che poi ha generato diciamo una soluzione finale e anche una prototipazione di questo di questo passport fino ad arrivare questo lo salto perché forse diciamo ci porta fuori strada a esempi come questo della 27esima regione che è un'agenzia di consulenza francese che in un qualche modo fa questi lavori con soggetti locali diciamo dalla scala regionale locale o delle grandi aree urbane in cui per esempio ha lavorato sul recupero dei piccoli sistemi di infrastrutture ferroviari in disuso sottoutilizzati da questo punto di vista qui di nuovo se immaginate giusto come esempio il potenziale di questo tipo di metodi adattato a moltissime situazioni di trasformazione urbana e nord vi rendete conto che come dire presuppone un modello di relazione tra soggetto pubblico e cittadino sul tema della partecipazione molto differente quello che arriva ad essere poi generato è un sistema che ha una base di utenti potenziali che sono potenzialmente anche quelli che diventano i protagonisti del servizio che acquisteranno o utilizzeranno i servizi quindi con un'idea anche di complementarietà virtuosa diciamo tra l'idea una sua realtà di sostegno economico quindi generazione anche di un potenziale di trasformazione economica reale per ultimo credo che sia e poi ho finito questa è un'esperienza che abbiamo fatto noi ed è un lavoro fatto sempre col Policy Lab della comunità europea in cui assieme ad una serie di altre scuole di design ci siamo inventati proprio una indagine come dire prima etnogratica fatta con dei focus group all'interno di sei realtà cioè sei paesi europei e che è servita come base per una generazione di una cosa leggermente diversa da quello che vi ho raccontato ma che va nella linea della riflessione di cui stiamo parlando che era un'idea di usare speculative design quindi un'immaginazione radicale per andare a generare alcuni elementi di ispirazione strategica che poi potrebbero essere sviluppati sia dalla comunità europea e dalle singole amministrazioni pubbliche dei paesi che hanno ospitato questa iniziativa il risultato è un report scaricabile si chiama Future of Government 2030 e racconta dei progetti realizzati da scuole design di cui uno che noi abbiamo in qualche modo realizzato perché eravamo interessati questo della città e di questa idea di iperlocalismo cioè di dimensione di progetto contestuale locale nei luoghi urbani assolutamente con un booster che arriva dalla tecnologia e l'esempio che noi abbiamo preso era quello di andare a creare una sorta di un major bot cioè un bot basato su un'intelligenza algoritmica e pasciuto a dati come dire locali quelli che adesso si potrebbero trovare per esempio all'open data lab del comune di Milano ma anche ad altri per generare un supporto di decisione alla governance che generasse dei dati anticipatori questo è l'esempio secondo me diciamo borderline sperimentale di quello che io intendo diciamo per questo passaggio compiuto dalla policy normativa a una policy invece progettuale quindi se dovessi concludere dell'ultima slide credo di essere andato leggermente lungo ma non troppo il tema è ripensare l'azione politica e quindi apro le parentesi la partecipazione all'attivismo non solo come un'azione generica di messa insieme di condizioni normative di fattibilità ma davvero come un'azione che inglobando tutti questi strumenti e processi diventa un vero progetto e io ho finito troverete poi nella presentazione se la volete una serie di riferimenti alle cose che vi ho raccontato beh allora intanto grazie Stefano ci hai fatto fare una cavalcata diciamo su tanti livelli diversi allora intanto appunto stanno comparendo le prime domande io metto solo un punto proprio perché oggi abbiamo fatto i tavoli di lavoro a porte chiuse e c'è stato secondo me tantissimi rimandi tantissimi rimandi tra le cose che hai detto che appunto stanno su un livello di analisi anche macro e invece cose anche molto più diciamo terra terra che giustamente sono emerse dai tavoli perché da una parte c'è questa l'hai chiamato grande traguardo quindi rifacendoti alla tour e a tutto il discorso che ha prodotto negli ultimi anni c'è un elemento molto interessante che ha a che fare un po' con quello che era emerso durante il primo talk che era quello di Filippo Tantillo Filippo che guardava soprattutto le aree interne aveva detto alla fine bisogna necessariamente sempre partire dai bisogni e questa cosa è tornata nei tavoli sia di oggi che della settimana scorsa in realtà c'è questa tensione che poi è ovviamente irrisolta ma che in ottica progettuale quando si inizia a lavorare è dire ok io voglio andare veramente là e questo là magari è molto lontano nel tempo nello spazio e nell'immaginazione in qualche modo provare a costruire appunto l'attenzione tra i bisogni del quotidiano e poi l'obiettivo del grande traguardo e quello che può essere appunto di trasformazione ecologica soprattutto nell'ottica che mette la tour sul tavolo ma che poi è anche sempre necessariamente sociale e politica allo stesso tempo questo elemento di non compiutezza che è tornato moltissimo oggi sui tavoli quindi la dimensione da una parte l'importanza dell'errore è anche quella di non chiudere necessariamente sempre tutti gli aspetti progettuali in termini di output di processi e di pratiche ma invece trovare dei modi anche di progettare il non finito in qualche modo e di dare una dignità sia progettuale che poi concettuale e politica al non finito io ti chiedo solo una cosa velocissima e te la metto però farei così come domanda e poi leggerei le altre te ne reggo un po' va bene vengono fuori se c'è un consiglio pratico che ti senti di dare a chi volesse provare a incorporare strumenti di service design per le politiche di questo tipo in una progettazione dal basso quindi non necessariamente come qualcosa a me vengono in mente mille esempi ma lo chiedo a te sostanzialmente non come qualcosa che diciamo riguarda esclusivamente i decisori policy maker eccetera e invece qualcosa che può essere utilizzato da spazi come quelli che stanno partecipando alla guida quindi non so la bocciofila che sta mettendo in atto processi di partecipazione dal basso piuttosto che spazi rigenerati eccetera eccetera questa è la mia domanda spero sia chiara porto invece anche la domanda di Francesca che dice la leggo per tutti buonasera sono una designer appena laureata la magistrale con una tesi in cui ho prodotto un kit per sostenere e promuovere pratiche di inclusione sociale per i migranti all'interno del contesto urbano vorrei continuare questo percorso di service social design ma non ho esperienza in Italia la mia figura professionale è associata ancora alla comunicazione pubblicitaria o al prodotto industriale dove potrei trovare una possibilità di lavoro per fare ricerche e progettazione all'interno di questo ambito e poi invece chiede Claudia Franconi dice grazie molto interessante mi occupo di progettazione come un po' come e come si può approfondire questi temi all'inizio ho perso il segnale volevo capire il collegamento tra agenda 2030 e service design ultima domanda Ilaria dice Stefano secondo te come sono cambiate le pratiche partecipative dell'analogico digitale a parte tutti ti fanno un sacco di complimenti questi ti riassumo e ti cerco allora posso fare come dire parto dalla tua e poi magari me li ripeti perché altrimenti mi perdo allora su diciamo il tema dell'uso di processi di service design allora faccio diciamo una cosa generalista e una cosa un po' più specifica il service design come sai nasce in realtà diciamo non certo nelle pratiche emergenti e collaborative ma paradossalmente come processo compiuto nelle grandi corporation è un modello di gestione dell'organizzazione dei processi che poi aveva però come limite il fatto di non riuscire ad attingere alla realtà esterna del mercato cioè non capire che cosa voleva il mercato allora da questo punto di vista se dovessi dare un consiglio sintetico una riflessione che non parla diciamo dei singoli strumenti il tema è quello che io non ho nominato così ma è dello user centered design cioè del fatto che esistono dei luoghi delle persone delle comunità e che tutte le azioni che noi svolgiamo in un qualche modo che hanno un senso una finalità sono se hanno diciamo una struttura complessa dei servizi quindi hanno una base organizzativa hanno una realtà economica eccetera eccetera allora questo cosa vuol dire vuol dire che molto spesso questi bisogni che sono bisogni nascenti devono per riuscire a esprimersi in questo mondo che poi li rende performativi cioè che funzionano deve riuscire a intercettare o trasformare questi bisogni nascenti che non sono comunicati o descritti in questi termini in un termine che questa disciplina che controlla i processi può in qualche modo agire quindi vuol dire che deve deve avere ed è poi la realtà pratica di tutti diciamo le attività di service design deve avere dentro in te competenze di etnografia sociologia per analizzare i contesti in maniera non ingenua ed estrarre da questi contesti degli elementi di interpretazione che sono come dire ragionevolmente configurabili o ipotizzabili come dei bisogni a cui una società capitalista in qualche modo vuole rispondere scusate io dico capitalista in senso laico cioè una società capitalista come dire include anche gli aspetti come dire più partecipativi alternativi e indipendenti quindi come dire il tema è che però se voglio agire lì nel quadro di queste regole io devo in qualche modo trasformare le mie esigenze grassroot in qualcosa che anche questo tipo di mondo riesce a intercettare e quindi cosa vuol dire ridotto in soldoni vuol dire che devo e dico una parola che un po' mi urta però devo operazionalizzare diciamo questi bisogni per renderli progettabili dentro un sistema poi che ti chiede di azionarli con delle soluzioni tecnologiche dei modelli di organizzazione seppur come dire liberi o con gradi di libertà importanti e quindi questo passaggio dal mio punto di vista può essere facilitato dal fatto che esiste un'importante gamma di strumenti già a disposizione sono come dei commons io posso prendere e utilizzare sia sulla parte etnografica che sulla parte di analisi dell'azione faccio un esempio il blueprinting delle azioni che è un'analisi di task sarebbe in termini sociologici quindi andando davvero a definire unendo a tutto ciò e lo dico perché tu hai fatto l'esempio della bocciofila una grande sensibilità a delle condizioni culturali che si esprimono proprio nei contesti quindi non è le bocciofile è quella bocciofila con quel modello di offerta con quel intorno di persone con quel mondo che può attrarre in questo credo che il digitale sia come dicevo prima un booster potenziale per moltissime di queste cose facendo però solo una sola distinzione il servizio semplicemente quando ne parliamo così genericamente lo immaginiamo come un intangibile tipicamente la metafora è quando faccio il servizio è l'app cioè qualcosa è un azionamento a distanza sono delle interfacce attenzione che il servizio è materiale quindi nell'immaginare questo potenziale della bocciofila a un certo punto se voglio bere il bicchiere di vino fresco in quel pergolato lì quello è un bene intrasferibile quindi devo mettere degli elementi di servizio che lo raccontano lo comunicano o mi fanno capire la magia di quell'esperienza però quell'esperienza lì non la posso mettere in un'interfaccia quindi vengono da lì tutte le esigenze di comunicazione organizzazione che poi sono gli elementi concreti che uno vede quando lo riceve o lo acquista questo servizio non so se ho risposto sì secondo me decisamente sì in realtà è anche diciamo in parte risposto a un'altra delle domande che sono venute fuori in chat quindi come sono cambiate secondo te le pratiche partecipative dell'analogico al digitale che ovviamente è un domandone gigantesco non so se vuoi tornare aggiungere qualcosa ma io aggiungo solo una cosa allora io credo che di nuovo questa questa drammatica cosa che non è finita peraltro cioè propone diciamo a molte situazioni un'alternativa radicale però io credo che le alternative radicali siano sempre profondamente innovative perché perdo tutti gli elementi diciamo della mia attività tradizionale almeno momentaneamente e ho bisogno di ripensarle per rifarle funzionare allora l'idea che questa dimensione di esperienza concreta che è la base inspostabile di molte attività o delle specificità culturali o contestuali deve per forza trovare non voglio usare la parola storytelling l'ho detta però deve trovare la capacità di narrare queste storie perché alla fine queste storie che sono così locali con questo potenziamento in realtà sono totali gli esempi se volete ve ne faccio uno noi abbiamo fatto un festival di design dei servizi ok l'anno scorso fichissimo l'anno scorso partnership col corriere della sera sala buzzati salone del mobile iper figo capienza sala buzzati 250 persone piena ok quest'anno abbiamo detto che sfortuna lo dobbiamo rifare l'abbiamo fatto in giugno ok piattaforma digitale audience media dei nostri lecturer tipo triplicata quindi come minimo 600 su un canale solo quindi sommando il canale abbiamo raggiunto 15 volte più persone quindi quello che per noi era una perdonatemi la parola una sfiga totale in realtà è stato l'elemento che ci fa dire che da ora in poi lo faremo sempre così e magari aggiungeremo poi gli eventi in presenza ma per fare altre cose no e se volete ci sono tonnellate di esempi di questo tipo qui quindi non vuole dire eliminare la componente tangibile caratteristica ma adesso anche una persona o un soggetto o un'esperienza molto piccola può rimbalzare nell'universo cioè il tema secondo me non è solo neanche il denaro è la competenza l'apprendimento cioè come lo fai quindi secondo me è un moltiplicatore di potenziale enorme mi sembra mi sembra chiarissimo mi sembra chiarissimo ti fa giro un'altra domanda dicevo Francesca quella che ti chiedevo prima dice si è laureata è una designer neolaureata che ha prodotto un kit come progetto di tesi per promuovere pratiche di inclusione sociale per i migranti all'interno del contesto urbano vorrebbe continuare il suo percorso ma non ha esperienza e dice in Italia percepisco la mia figura professionale come qualcosa di solito associata alla comunicazione pubblicitaria o al prodotto industriale questo dice lei allora dove potrebbe provare a rivolgersi secondo te allora posto il fatto che esistono come dire come sapete credo perché siete persone tutte di mondo esistono paesi in cui l'imprenditorialità dal basso è aiutata esistono dei programmi in cui persone che si muovono nel campo dell'innovazione sociale della creatività della creatività tecnologica ottengono quelle che viene definito il seed money cioè il capitale di inizio secco quello che paga le spese per mettere appunto appunto una soluzione per poi se ha valore diciamo distribuirla su una scala più vasta in Italia di seed money ahimè ce n'è pochissimo e tendenzialmente credo che siccome voi siete maestri diciamo tutta un'area di produzione culturale innovazione sociale tendenzialmente di soggetti molto istituzionali allora a me vengono in mente i soliti fondazione Giuliano dell'amore fondazione cariplo qualche diciamo iniziativa sporadica diciamo lo stesso che fare ha fatto nel passato come dire moltissimo però detto questo diciamo credo che la domanda che questa giovane designer si dovrebbe fare è scusate se lo dico cui prodest ok cioè tutte le volte che io immagino a partire da un'esperienza individuale di fare qualcosa è una cosa meritoria il tema è che come dicevo prima se non parto da un bisogno che in un qualche modo qualcuno mi ha già richiesto sono io che devo fare questo pezzo di integrazione quindi vuol dire perdonatemi fare come il designer viaggiatore con una valigia in mano e fare come dire i dimostratori cioè bussare alle porte e proporre questa idea e purtroppo il sistema italiano non ha delle arene come dire intermedie quindi c'è tra virgolette perdonatemi il bando o l'iniziativa e poi c'è il designer condotto che va a bussare le porte allora io credo che la creazione di arene un po' più liberi dove uno può costruire una reputazione che poi atteva le relazioni anche di tipo imprenditoriale con il pubblico con il privato andrebbe creata quindi se dovessi dire cosa può fare che fare se si vuole divertire credo che lo faccia ma trovare e far diventare queste arene permanenti cioè dei luoghi riconoscibili quindi Francesca uscendo da questa diciamo da con questa diciamo sua visione dice ma di fatto se vado per reputazione penso tutti mi parlano di e questo secondo me purtroppo in Italia fatto salvo questi tre o quattro santuari non c'è la cosa che però voglio dire è che io mi occupo di formazione design e servizi l'unico come dire area della disciplina che in questo momento ha gente che viene strappata con il denaro in mano è il service design chiunque dalla grande multinazionale della consulenza che si è comprata l'agenzia di service design si vuole occupare di service design quindi come dire le faccio bocca al lupo ma se guarda come service designer di lavoro ne trova a pacchi sinceramente questo diciamo la stessa percezione che ho io da esterno diciamo al mercato specifico del lavoro ma sembra che di costo in giro chiaramente se sei appena laureata c'è quella fase terrificante che dura sempre troppo insomma del cerca manda fai briga però fa parte della costruzione di competenza il consiglio è votare con le gambe andarsene in qualche posto starci un anno tornare con una reputazione e trovare un lavoro esatto perché c'è questa cosa che a me l'avevano detta in altri contesti altri mondi il nemo profeta in patria all'inizio ti fai un po' di curriculum e di reputazione fuori ultimissima cosa Claudia Franconi dice che si è persa siccome c'è avuto un problema di linea se puoi ricordare brevemente il link tra agenda 2030 e service design credo sia una domanda interessata probabilmente a qualche tipo di progetto allora il link ovviamente non è diretto ma è concettuale è che qualunque grande azione roadmap di trasformazione quando passa da un livello astratto di generazione di un obiettivo come è quel tipo di agenda a una dimensione concreta diventa un servizio faccio un esempio voglio risolvere il problema della fame in Africa bene è dislocare una forza di intervento in complesso sistema che produce dal vaccino al trasporto e aiuti quello è un gigantesco servizio la ricerca medica e l'azionamento delle future possibili vaccinazioni per il covid è un servizio cioè quindi se li andiamo a ripercorrere da uno a uno e entriamo nel dettaglio delle azioni concrete che stanno dietro al grande obiettivo di fatto sono grandi azioni di servizio molto spesso di mano pubblica ma non solo non solo sono magari azionati inizialmente dalla mano pubblica ma poi diventano territori anche di mercato di grandi soggetti privati quindi cioè questo è il legame spero spero che sia chiaro secondo me chiarissimo c'era vabbè c'è una lunghissima considerazione che però direi visto che anche interessante sul rapporto tra progettazione bambini eccetera però siamo alle 18 e 41 quelli che sono con noi dall'inizio sono qua dalle 14 che online diciamo ha quasi a luglio una vita e mezzo supereroi esatto una vita e mezzo quindi io direi che possiamo tra grazie direi grazie per per l'intervento e anche per i feedback sulle domande direi che possiamo chiudere questo pezzo continuo i complimenti grazie grazie bravissimo eccetera sulla chat per chi vuole rimanere tra i partecipanti della guida